salve amici di youtuber ce l'ho fatta sono riuscito ad andare a vedere cats il film allora allora dunque cosa c'è da dire beh nonostante tutte le critiche che ho letto e che ho anche visto su youtuber io invece sono rimasto piacevolmente sorpreso è un bel film ben costruito con buoni effetti visivi e soprattutto con una trama interessante ma soprattutto che rispecchia lo spirito del musical cats lo so forse questa recensione sarà unica nel genere il primo e unico che dice parole buone sulla musical ma io non sono stato a spaccare il capello a ogni piccola cosa ogni cosa ogni cambiamento comunque la trama comunque adesso ho deciso di fare sia una breve un breve succinto della trama e sia anche una spiegazione più complessa allora cazzo è un film music musicale questo già fa capire che è un genere particolare il film musicale prevede infatti molte canzoni molti balli per di più ed è ed è basato su musical quindi anche le canzoni e i balli tutto è pensato proprio per l'ambiente musicale forse questo che non ha convinto tutti il tentativo di trasportare un musical sul grande schermo di farlo uscire dal concetto di teatro e farlo entrare sullo schermo il che ha creato una conflittualità comunque allora il film ha una trama lineare piuttosto semplice come siamo a londra ma non tuiamo soltanto da alcuni piccoli dettagli sul sullo sfondo in un quartiere e vediamo una macchina che sta passando da questa macchina viene poi gettato giù un sacco e delle ombre si avvicinano quelle ombre si rivelano essere dei gatti umanoidi e questo forse avrà fatto storcere il naso a qualcuno la cgi usato per trasformare degli esseri umani che ballano e cantano in gatti che si vede proprio che sono gatti umanoidi ma per me è stata comunque una scena una buona scelta invece di mettere uomini che ballano e cantano fuori dal contesto hanno voluto mantenere il contesto dei felini che ballano e cantano sul musical comunque da questo sacco esce vittoria una gattina bianca che si guarda intorno e i presenti cominciano a cantare e qui la colgono con la musica di inizio in che si presentano come i gelicol cats vedono chi è che cosa vuole alternando parole e anche neanche canzoni che però sono soprattutto basate sul musical spiegano di essere i gelicolts e che ognuno di loro ha una storia e soprattutto soprattutto accompagnandola facendola muovere in questo quartiere passando per zone di cimiteri di anche di discariche si spiegano spiegano anche chi sono cioè che sono i gelicolts e che lei è comunque entrata nel territorio dei gelicolts cats e cosa più importante è arrivato il momento di una scelta in pratica i gelicolts una volta all'anno con una luna piena la cosiddetta luna gelicolts si riuniscono per partecipare a una specie di gara in cui l'anziana matriarca sceglierà il gelicolts più meritevole che avrà quindi accesso a una nuova vita e vittoria quindi assiste alle rappresentazioni di questi dei diciamo dei gatti che sono in lizza abbiamo all'inizio gem doish una gatta domestica che lavora soprattutto che sembra parte il primi che di giorno sembra poltrire non far niente ma di notte invece lavora attivamente per mettere a posto topi e scarafaggi rom tam tam un gatto apparentemente frivolo e civettuolo ma che in realtà vuole solo guadagnarsi tutto quello che desidera e desidera ciò che poi vuole guadagnarsi quindi una sorta di controsenso mentre è in corso questa questa prima presentazione si avvicina al vittoria un misterioso gatto che le spiega che quest'anno il favorito è un gatto chiamato ma cavati quindi sparisce c'è vittoria quindi conosce due gemelli che la invitano a ballare e cantare mentre mentre balla con loro e si muove i gemelli man jerry rompo che si divertono a combinare guai ma essendo gemelli non possono mai venire incolpati fa anche la conoscenza conosce anche un gatto magico molto timido chiamato mister mistoffere che usa la sua magia per tirarla fuori dai guai parallelamente conosce anche non c'è anche un altro gatto un misterioso gatto o meglio una misteriosa gatta che però viene evitata e allontanata da tutti e spiegano che si tratta di grisabella e lei un tempo faceva parte della tribù dei gericos ma è stata allontanata per varie questioni e proprio allora fa la sua apparizione l'anziana matriarca la vecchia che ha deuteromenio un deuteromenio infatti il problema è che io sono abituato a rivolgermi a lui a come deuteromenio perché nell'opera originale è un maschio che ha seppellito un numero imprecisato di mogli tra 9 e 99 dicono i gelical cats e appunto in questo film è stato invece rappresentata come un'anziana matriarca una femmina la quale osserva grisabella e vittoria che interagiscono e poi vede tristemente grisabella che se ne va quindi si presenta a vittoria le chiede chi è cosa fa quando viene a sapere che è una gatta senza famiglia che è stata abbandonata la accoglie nella tribù invitandola anche a vedere gli altri concorrenti che corrono per il premio mentre se così vediamo che gli altri vediamo vediamo che un misterioso gatto una figura appare vicino vicino agli altri concorrenti e li fa sparire e così conosciamo e non sappiamo intuiamo che c'è qualcosa di strano mentre mentre i gatti non si accorgono e continuano quindi abbiamo uno skimbers il gatto del teatro che lavora nelle ferrovie borsa un gatto borghese gatz un vecchio gatto teatrale e proprio finito gatz conosciamo vediamo di nuovo il gatto che si era avvicinato all'inizio a vittoria che chiede un autografo all'anziano gatz mentre gasta per firmare dice che il suo volo si accorge che il volto di quel gatto è quello degli avvisi di ricercato di macavati infatti subito dopo mentre i gatti stanno ballando cantando e cercano di danzare insieme così una bellissima una coreografia stupenda proprio solo per vittoria entra in scena una femmina fatale che annuncia l'arrivo di macavati e così vediamo proprio che il gatto che ha rapito tutti i concorrenti è proprio lui è macavati il quale si presenta balla fa un bello nascimento e poi dice che essendo l'ultimo arrivato e anche l'unico rimasto praticamente l'anziana non ha modo di scegliere nessun altro però la matriarca ha subito l'inganno rimprovera macavati gli fa notare che comunque non sarà mai scelto quindi macavati usa la sua magia per portarla via quindi scopriamo che ha rapito tutti gli altri concorrenti e li ha portati su una zattera che sta in mezzo al tamigi e quindi minaccia di buttare nel tamigi l'anziana matriarca se lei non lo sceglierà la sparizione dei grande l'anziana della matriarca ha gettato nello sconforto i jellycoats fino a che vittoria non si ricorda del suo amico e si può intuire anche innamorato mister mistoffere che è un mago quindi i due lavorano e con un numero riescono a riportare nel teatro dove stanno ballando e cantando l'anziana matriarca gli altri concorrenti invece usando le loro abilità riescono a liberarsi dalle corde dalle catene si sbarazzano del complice di macavati buttandolo nel tamigi e quindi lasciandolo senza lasciando macavati senza complici e facendolo andare via mentre sono tutti e poi si riuniscono al gruppo che è in piena festa quando ritorna grisabella che li vede osserva e allora insieme a vittoria balla e canta canta il pezzo più famoso memory in cui ricorda com'era la sua bellezza che poi è stata sfiorita dalla sera allontanata in questo in questo pezzo lei ottiene riammissione nella tribù e l'anziana matriarca decide che è lei l'eletta usando la magia di mister mistoffere trasformano un lampadario in una mongolfiera e la lasciano andare via nel cielo mentre macavati ritorna e tenta quantomeno di aggrapparsi alla corda di salire su però scivola e rimane bloccato nel cappello della statua di nelson e per di più è apparsi i suoi poteri quindi bloccato neutralizzato non può fare più nulla così i gialli colchette salutano l'eletta proprio mentre il sole sta sorgendo e dopo averla da essersi congedati si allontanano mentre l'anziana accoglie vittoria nel nel gruppo dei jellicle cats e qui finisce il film ora le coreografie sono per me spettacolari degni proprio di un musical le canzoni sono state alcune sono state un po adattate ci sono stati dei mangiamenti però rispecchiano al massimo lo spirito del musical originale forse quello che ci può criticare è il fatto che apparentemente i gatti cambiano dimensioni ora sono grandi quanto un normale gatto ora sono più piccoli ora sono più grandi però in tutto comunque legato alla necessità dello spettacolo e forse forse dico forse perché intuisco che può dar fastidio a qualcuno ma per me non è una cosa importante è che il fatto che tutto del dei movimenti dei balli è stato pensato più per un musical quindi si vedono che i personaggi hanno una telecamera e loro la guardano la guardano lì però questo può essere l'effetto telecamera tipo i film western dove ci sono i personaggi che stanno guardando dritti davanti a sé le telecamere fanno degli zoom per momenti di massima attenzione quindi probabilmente per questo che a me non disturba più di tanto perché io socio comunque la necessità della telecamera di fare impressione di far attirare l'attenzione su una particolare azione quindi il musical quindi il film per me merita di essere visto per me non merita di essere ma stato massacrato così tanto dai vari personaggi non merita addirittura che si critichi solo tutto per me merita comunque di essere andato a vedere io spero che un giorno verrà riconsiderato come un buon film riscoperto e si guarderà di nuovo e verrà comunque guardato il film io spero che questa recensione abbia convinto qualcuno che è un bel film che merita di essere guardato e che soprattutto non merita completamente le critiche che lo hanno completamente smontato infatti ho sentito critiche in cui si è criticato il film proprio la concezione la trama l'uso della telecamera l'uso della cgi dell'allocation appunto l'allocation tutto hanno criticato ma non è vero Cats è un buon film se lo guardi con il giusto occhio se lo guardi con l'ambito del dell'appunto di colui che si è avvicinato tranquillamente può rimanere poi un'opera che ti piace un'opera vedi questi personaggi che ballano cantano cantano canzoni che hanno lasciato la storia fanno stupende coreografie bene quindi io dico se ancora ancora si Cats è un bel film Cats merita di essere visto Cats non merita le critiche Cats non ha meritato di essere stroncato dalla critica senza appello quasi un flop per me è comunque un buon film vabbè ci vediamo spero che qualcuno veda questo film questa recensione attenzione e che commenti se volete commentare appunto giù mettete pure giù i commenti ditemi cosa ne pensate ricordo appunto che questo video vogliono dico che questo video è stato realizzato per mister critico 87 alias Francesco Barni che si era interessato anche lui al musical sebbene lui si sia fermato al musical e non al film e che lui stesso si sta chiedendo come vi lascio il link per andare al suo canale bene a presto arrivederci grazie a tutti grazie a tutti